E ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla The Iron Rose, una mappa avventura che penso sia la più bella di tutte, della U7 qualcosa, U7-4. Allora, nello scorso episodio ci eravamo fermati e abbiamo messo l'occhio per lo scanner e c'è magari un tipo di accesso fuori da questa regione, perlomeno, al piano superiore, poi adesso non so dove andremo. Guardie, un tizio prendetelo, ma non vedo niente, cosa? Le guardie si hanno battuto molto bene e mi hanno oscurato gli occhi e mi hanno rimesso in prigione, quindi adesso devo scappare dalla prigione. Ma sei, siete dei pezzi di merda? Un tizio, cioè penzola? Ehm, ma come? Non lo posso... Vabbè... Ehm... Che cazzo... Ehm, va bene... Aspetta un minuto cosa c'è nell'angolo, sembra come l'acqua, sta scendendo giù dalla debole struttura... Ah, vedi qui, sta sgocciolando... Ehm, comunque... Non so cosa io debba fa... Ah, sboccato la cesta, fermi, fermi, fermi... Fatemi scendà... Leva, 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 leva... Allà... Ok. Spero che la guardia... Non mi veda... Eh... 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 Aspetta, aspetta, aspetta... Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea... Vience... Vience, vience, vience... Bravo, bravo, bravo... Bravo, bravo... Bravo una sega... Bravo... Una sega... No... No... No, no, non posso, non posso, non posso... Deve ucciderla... Non posso, devo ucciderla... Sempre se si può uccidere... Con cinque colpi di spada... Con... Di spada? Ah... Ah, ok, si poteva uccidere qui... Meglio così perché... Volevo sorpassarla e chiuderla dentro perché non ci sono riuscite... Eh... High Security Cell... C'è la sicurezza alta... C'è la... Eh... Eh... Ehi... Eh... Fammi uscire o ti ucciderò a te e la tua famiglia... Non lo fa ancora, cazzo di merda... Su lino maledetto... Lezzo... Sudicio... Penso... Ok... Settore C... Settore A, Store D... Settore D... Qui che c'è? Libreria della prigione... Non posso prenderlo con questo... Book deposit... Breaking the law... Crime... Punishment... In certe book respiration... Ok, questo me lo prendo perché non so cos'è... Mi piacciono le mucche... Ma a me non tante, zio... Eh... Chaos Gold... Cos'è questa roba... Ma... Perché... Perché... Spieghi perché... Che qui c'è il bagno... Oddio non mi è avvenenato... Sfruttiamo l'occasione... Devo andare di qua? Qui che c'è? Dining Hall... Posso invarci? Ehi... Ehm... Vai a prendermi la zuppa... Ehm... Devo passare... Devo passarlo in qualche modo... E magari posso... Attrarlo con del cibo e qualcosa... Aspetta, aspetta, aspetta... Lui che muore... Due stringhe per un diamante... Ok... Non so il... Non ho capito il motivo... Un red tulip per un clock... Un clock per un panino... Carofa... Ehm... Questo? Due pesci per un pesce... Ma che tirchio! Cioè ok... Quello non serve a nulla... Cold bread container... Qua... Chicken container... No... Seemer water... Ah no... Questo è un cavolo... Kitchen staff... Ma se magari potessi aprire... Una stanza... Da... Questa parte... Ehm... Ehm... Io... Puttana... Ehm... Voglio lavorare qui... Ehm... Ehm... Ho visto... Ehm... Stai fermo un po' però... Ho visto... Ehm... Se vuoi... Ma io posso... Craftare la pala di diamante... Sono un pirla... Dov'è quello della pala? Eccolo qua... Red tulip... Quello del red tulip... Era questo... No... Era questo... L'orologio... Questo era quello dell'orologio... Panino... Dry bread... E ce l'ho... Mi manca... Il resto... Ehm... In questo vengono qualcos'altro... O no? Una mela e una carota... Ma da dove le ottengo? Merlin... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Ma vai a cagare... Erano qua... Ma te ne rendi conto... Dai... Io le ho cercate per un'ora... E erano lì... Fatti... Cioè il pollo era più facile del... Del... Del bread... Cioè... Quindi qui... Lo spicy chicken... Ehm... Questo era il pollo di cui stavo parlando... Hai provato adesso? Eh... Ok... Ora puoi aiutare in cucina... Facendo la zuppa di patate per le guardie... Non la zuppa di patate... La mangio... È diverso... Comodo... Cosa? Ci scriverai... Spatici... In mezzo... Aspetta... Ma siamo sicuri che mi serve... Potete sfruttare... Voi... Leftover... Leftover... Cook... Cazzo... Allora... Io prendo tutto... Perché non so... Cioè... Praticamente devo fare una roba di cucina... Poi io mi prendo tutto... Questi bug... Io boh... Va bene... Eh... Lates Powder... Lates Powder... Lates Powder... Ah ok... Aspetta... 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 Devo mettere... Dov'è quell'altro? Ok... Che sto... Non so cosa si... Non lo so... Non lo so... Zuppa è fatta Ok Quindi queste Buttiamole anche via Questa è una regolare Zuppa Però credo che non Servirà Questa servisse Per uccidere Il tizio Cioè io provo Poi non lo so Ah li devo splashare Giustamente Oh ecco Le stavo splashando Bene Allora io ho tanto cibo Buon appetit Mada fuck Bellissimo Isolation chamber Ehi Cosa stai facendo? Sto 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 guardando per il bagno No No Sono una guardia con te Oh si? Se sei una guardia Per il tuo codice d'onore Qual è? Io farei questo So So Non è il giorno che tutti si vestono Mentre oggi Perché il mio genito? Ok Quindi questo Non so se crederti Dai uovo Guarda Tutto che le voglio fare È meglio questa Più ragionevole Non lo so Per favore Pretty please Non lo so Pretty please Con dello zucchero sopra? Cosa? Cos'è questa cosa? Minchia stai calma Ah praticamente ci ha detto di sì Ok buono